Un nuovo appuntamento con Crona che commenti la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Via libera del Consiglio al documento di Economia e Finanza 2023. Garantire la rappresentanza territoriale della Valtiberina nell'ente Acque e Umbre Toscane. Siccità trasformare cave dismesse in bacini di accumulo. Con 21 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio regionale ha approvato il documento di Economia e Finanza regionale 2023. Ad illustrare in aula il DEFRA è stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Il Consiglio regionale ha approvato il documento di Economia e Finanza per il 2023. Un testo che parte da un'analisi di un quadro economico estremamente complesso. Se il prodotto interno lordo nel 2021, nonostante la pandemia, si era attestato intorno al 6,6%, nel 2022, diversamente dalle previsioni che lo davano quasi al 5%, si è fermato al 2,2%. Un dato importante che discende dalla crisi generale delle economie avanzate, dall'aumento delle tariffe dell'energia elettrica, dall'escalation militare della Russia e che quindi impone anche al governo della Regione Toscana un'attenta analisi delle strategie per il futuro. Dal punto di vista della fiducia nei confronti quindi del mercato e delle istituzioni, da parte delle famiglie si è registrato un calo considerevole, così come un calo significativo si è avuto da parte delle imprese, soprattutto con riferimento a quelle che operano nel commercio al dettaglio. C'è da registrare che il quadro della finanza regionale in ambito sanitario ha invece tenuto. Nel 2019 c'era una situazione sostanzialmente florida da un punto di vista del bilancio regionale della sanità. Nel 2020, data la pandemia e le maggiori risorse che si sono dovute investire, è stato necessario un importante intervento dello Stato, intervento che non c'è stato nel 2021 e pertanto è stata la stessa Regione sul proprio bilancio a far fronte alle perdite e quindi alle maggiori spese che si sono dovute sostenere sul fronte sanitario per arrivare comunque ad una posizione che è attualmente in equilibrio. Permangono le politiche di investimento in alcuni settori strategici che si erano già volute intraprendere negli anni precedenti, soprattutto con riferimento agli immobili a livello regionale, con riferimento all'assetto idrogeologico, all'edilizia sanitaria o anche all'edilizia pubblica residenziale. Un piano che prevede uno stanziamento di risorse nel prossimo triennio di 1 miliardo e 600 milioni, di cui circa 750 milioni sul 2023 e oltre 600 milioni per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025. I settori che maggiormente beneficeranno di queste risorse per gli investimenti sono quelli collegati alla sanità ma anche e soprattutto quelli collegati al settore mobilità e infrastrutture. L'ASFRE è il documento che imposta la politica economica della Giunta per la programmazione che si collega al piano regionale di sviluppo dei prossimi anni, provvedimento organico che dà senso al fatto che l'area di Toscana in questo momento è una delle regioni che attira di più nell'economia italiana. Se noi abbiamo avuto nei primi sei mesi dell'anno il 3,4% di prodotto interno lordo da parte della Toscana una posizione più virtuosa rispetto appunto a questa cifra che ha l'Italia che è superiore a quella della Francia e della Germania, con una Toscana che si attesta anche vicino al 6%, è evidente che noi dobbiamo continuare sulla strada di una valorizzazione multipolare della nostra manifattura, del turismo, della cultura come delle imprese fondate sulla tecnologia, con un pauso che io mi sento di fare perché tutti insieme, regioni, enti locali, imprese, enti abilitati a presentarsi ai bandi, al primo di settembre possono vantare un numero alto di progetti di piano nazionale di riprese e resilienza, addirittura ormai siamo a più di 1200 progetti approvati con una complessiva ricaduta superiore ai 3 miliardi e 100 che dà al DEFRE, al documento oggi approvato, il senso di strategie che vedono la Toscana fra i protagonisti di una positiva attività nell'economia in Italia. Certo, le incognite dei costi delle materie prime e soprattutto dell'energia sono quelli che sappiamo, ma insomma siamo regione virtuosa. Abbiamo sostenuto il DEFRE, però abbiamo chiesto con forza di rivedere le linee strategiche. Per noi il primo punto di intervento deve essere la questione di carattere energetica. Servono risorse regionali da affiancare a quelle nazionali per elementi e per strumenti di produzione energetica, per abbattere i costi a cittadini e a imprese. Serve discutere rispetto al tema sanitario. Noi siamo contrari, per esempio, al sistema di riforma dell'emergenza-urgenza che rischia di mortificare i volontari e di svilire la funzione dei medici, professionisti e tutti gli operatori del sistema sanitario. E siamo soprattutto per fare interventi rispetto all'approvvigionamento idrico degli invasi nel territorio diffusi sia di sistema pubblico che per sistema privato. Quindi le risposte che dobbiamo dare rispetto alle tre grandi emergenze che comunque sono quella energetica, quella sanitaria e quella idrica devono trovare nel nostro documento di programmazione e di finanza dei riscontri con le risorse che accompagnino il piano regionale di sviluppo che deve essere approvato quanto prima. È un documento che parla di possibile riacutizzarsi del fenomeno Covid e della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Benissimo. Si fa una grande analisi del problema, si dipingono scenari macroeconomici del problema e non c'è una riga una di quello che ha intenzione di fare la Toscana tra il 2023 e il 2025 per fronteggiare queste due emergenze. Si parla di risorse, ci sono 4 miliardi da investire, il 59% di queste risorse vengono, rispettando i progetti del PNRR, ci mancherebbe altro, vengono destinati alle nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile. Un tema importante che nessuno lo nega, ma oggi sinceramente se uno fa la fotografia alla Toscana e all'Italia di oggi noi non crediamo che con 4 miliardi di risorse a disposizione la Toscana debba investire il 60% in mobilità sostenibile. Si parla di sostenere le imprese, si parla di aiuti alle imprese per far fronte alla crisi energetica. Ebbene, non c'è mezzo processo e tra il 2024 e il 2025 si destinano 160 mila euro l'anno per progetti per attrarre nuovi investitori in Toscana. è una ridicolezza, è un'elemosina di fronte a un bilancio, di fronte a nuove risorse per 4 miliardi di euro, 160 mila euro destinati ad attrarre nuovi investimenti per le imprese. Per la lotta alla povertà delle famiglie toscane, per la lotta alla povertà, si destinano 2 milioni quest'anno e mezzo milione di euro nei prossimi due anni, 220 mila euro l'anno, meno di mezzo milione. Cioè, noi pensiamo di fronteggiare la crisi economica e sociale con mezzo milione all'anno? Novità poche. Si continua a perseguire vecchie politiche quando il mondo è radicalmente cambiato e siamo seriamente preoccupati perché siamo a un passo dalla stagflazione, un rischio sempre più grave. La stagflazione è quella situazione in cui sono presenti ondate inflattive, aumentano i costi dei prodotti, infatti si riducono i consumi anche dei beni di prima necessità e al tempo stesso c'è stagnazione economica, cioè non cresce il PIL. Di fronte a questa situazione cosa sta facendo la Giunta? Io ho chiesto qual è la domanda da fare, che cosa sta proponendo per supportare le nostre famiglie, le nostre imprese. Io nel Doeffer non ho trovato praticamente nulla, ma la Regione questo non può permetterselo. Noi abbiamo il dovere di attivarci, di attivarci perché tanti toscani si trovano in situazioni di difficoltà e tutto ciò è inammissibile. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo una discontinuità forte, anche in termini di composizione della Giunta. Ci troviamo di fronte non solo ad un documento che avrebbe dovuto attuare, delle precise strategie regionali, soprattutto alla luce della drammatica crisi che stiamo vivendo e che oggi naturalmente si tocca sulle imprese, si tocca sulle famiglie con il caro energia. È una situazione in cui non si intravede una benché minima strategia di lungo periodo. È chiaro che di fronte a questo immobilismo non possiamo che esprimere un voto assolutamente contrario rispetto a un'impostazione che oggi appunto non vede delle risposte in modo strategico. L'emergenza energetica, l'emergenza povertà, l'emergenza sociale sono tutti i temi che sembrano scivolare dalle parti della Giunta senza che però ci si faccia effettivamente carico di programmare in modo serio quelle che sono delle risorse anche importanti che però vengono molto spesso disperse in Mirre Ripoli. La strategia che noi proponiamo è invece una strategia molto pragmatica, individuare tre, quattro situazioni emergenziali sulle quali investire risorse importanti per cercare di dare risposte anche in Toscana ad una situazione che rischia davvero di portarci ad un'economia di guerra. Questo DEFRE fondamentalmente è un riciclo, un'economia circolare, quello sì, di vecchi progetti che sono stati ripresentati, ammodernati ma che non hanno nessuna differenza strutturale con quello che c'era precedentemente. Ci sono delle emergenze in questo momento a partire da quella energetica che chiedono invece un cambio di approccio radicale che qui non vediamo nemmeno per quanto riguarda l'approccio ai finanziamenti e al bilancio. Si è proposto ad esempio, anzi si sta cercando di vendere il rigassificatore di piombino come la soluzione all'aumento delle bollette quando sappiamo benissimo che non è così per le tempistiche con cui questo eventualmente verrebbe installato. Abbiamo invece la sanità pubblica che soltanto fino a settembre ha 116 milioni di bollette, quindi un aumento spropositato. A Cecina per esempio quest'estate è stato chiesto negli ospedali di portarsi un ventilatore, qualcosa da casa per raffrescarsi ai pazienti. Ecco, vedere un DEF che di fronte a questa situazione continua a essere qualcosa che sono dei semplici pannicelli calvi e delle pezze che vengono messe su una situazione molto difficile fa capire che come dal primo giorno questa giunta sta navigando a vista e prova ne è definitiva che non esiste ancora il programma strategico della regione che doveva essere il primo documento che la giunta e il Presidente Gianni dovevano presentare. Si navigava vista nelle leggi così nei bilanci, così come nelle variazioni. Garantire la rappresentanza territoriale della Valtiberina nel layout lente, acque e umbre toscane è quanto chiede una mozione approvata a maggioranza affinché siano messe in atto le opportune misure per aumentare da 3 a 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente. A spiegare i dettagli il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli. Da parte dei territori sia umbri sia toscani quelli che dicono noi abbiamo la diga sopra la testa per capirsi c'è da tempo la richiesta di avere anche una presenza nel CDA da parte di persone che siano radicate nel territorio della Valtiberina. Ecco, con questa proposta a parità di spese noi proponiamo di portare il Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 e quindi ricomprendendo due rappresentanti che siano rappresentanti più radicati nel territorio dove insiste la diga sia nella parte umbra sia in quella toscana. Credo che sia un gesto di attenzione nei confronti delle richieste di un territorio che può sicuramente portare un valore aggiunto rispetto al lavoro che l'ente andrà a fare. Per il consigliere della Lega Marco Casucci la mozione sembra condivisibile ma pare che l'atto sia stato presentato per placare il malcontento scaturito nella zona. Questa mozione ci lascia perplessi ha invece dichiarato il consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri perché pare che il gruppo di maggioranza vada contro le scelte del presidente Gianni. Trasformare cave dismesse in bacini di accumulo per fronteggiare il fenomeno della siccità è quanto contenuto nella mozione presentata dalla consigliera della Lega Elena Meini. L'atto è stato approvato all'unanimità accolti anche emendamenti del consigliere del Partito Democratico Mario Puppa. Auspichiamo che oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo in Toscana ci sono circa 2400 cave altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2400 cave la visione la rivisitazione per far sì che alcune almeno di queste cave possono diventare dei veri e propri bacini di accumulo. l'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori diverse attività produttive e quello che noi auspichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più quindi abbiamo tutto un periodo diciamo tunnale invernale davanti per poter valutare queste cave come bacini di accumulo e cercare di risolvere per la prossima estate questo problema che ha travolso non solo questa regione. Questa era la nostra ultima intervista e tutto anche per questo appuntamento vi ricordo che Cronache e commenti torna la prossima settimana.